Ha tentato di schivare l'auto che gli stava andando incontro a tutta velocità ma non ce l'ha fatta e l'impatto è stato fatale. Queste immagini sono state riprese da una telecamera di videosorveglianza e, malgrado siano scioccanti, sono state diffuse dalla magistratura per tentare di dare un nome ed un volto al pirata della strada che ha travolto Giancarlo Ravidà, 19 anni appena, morto all'ospedale di Careggi per le ferite riportate nell'incidente. Sono da poco passate le 22 di sabato sera quando l'auto percorre via Valentini, falcia il giovane che stava attraversando e poi fugge. A dare le allarmi alcuni presenti che hanno assistito al tragico incidente e che sono corsi in aiuto del giovane. Immediati i soccorsi e la corsa in ospedale, prima a Prato, poi il trasferimento al Policlinico Fiorentino dove il decesso è stato dichiarato alle 18 di domenica e dove i genitori hanno autorizzato la donazione degli organi. Giancarlo era originario di Foggia e si era trasferito da poco nella città toscana con la famiglia. Avrebbe compiuto 20 anni tra pochi giorni se quell'auto pirata non lo avesse strappato alla vita. Le indagini adesso sono concentrate sull'individuare l'identità di chi era alla guida della macchina, un Apollo o forse un Audi e proprio per questo è stato diffuso il video dell'incidente.